La condizione atletica non è ottimale con gli elementi che si hanno, con i limiti, accettando i limiti e cercando di migliorarsi sicuramente. Sicuramente la squadra non è completa, centrocampo, davanti, un terzino a sinistro, quindi siamo un po' contati, questa è la cosa che si evidenzia. Quali sono le qualità della squadra? Noi stiamo lavorando per Molde, con i limiti che abbiamo andremo su e cercheremo di mettere l'impegno, poi chiaramente le qualità della squadra, io adesso la conosco poco, so che è una squadra che sta facendo bene in campionato, quindi dobbiamo cercare di lavorare sui nostri limiti, e quindi dando noi stessi, questa è la cosa più importante, dovremo andare su e giocare a calcio con la spensieratezza di una squadra che approda per la prima volta in Europa, per tanti è la prima volta che approda in Europa, facendo vedere il proprio valore. Poi quello che sarà la gara purtroppo non dipenderà, dipenderà anche da noi, ma dobbiamo vedere anche la squadra avversaria com'è.